Eccoci ormai alla vigilia di questo peggioramento di stampo completamente invernale che ci terrà compagnia a partire da domani pomeriggio sera e per gran parte della prossima settimana. Già domani, quindi nella giornata di domenica, avremo a partire dal pomeriggio sera le prime infiltrazioni di quest'aria fredda che giungerà dai Balcani e addirittura dalla Siberia e che appunto determinerà nel corso della serata di domani e nelle prime ore di lunedì già un primo temporaneo peggioramento appunto associato delle precipitazioni a dei rovesci anche sotto forma temporalesca che dalle aree costiere velocemente si muoveranno verso i settori appenninici determinando già qualche fiocco di neve oltre i 5-600 metri. Le temperature diminuiranno già a partire da domani pomeriggio sera in maniera ancora più incisiva nelle prime ore di lunedì quando in quota arriveranno delle esoterme di meno 8-9 gradi. Per la giornata di lunedì come possiamo vedere da questa cartina le condizioni saranno all'insegna della diffusa instabilità, solo nel primo mattino potremo avere delle schiarite a tratti anche ampie ma poi nel corso della giornata i rovesci si faranno sempre più frequenti e interesseranno sia le zone costiere ed in maniera più incisiva le zone interne appenniniche. Proprio a caso delle basse temperature queste precipitazioni saranno sotto forma di neve anche in pianura, tuttavia diciamo gli accumuli sulla costa saranno veramente molto molto bassi e questo dipenderà anche dall'intensità dei fenomeni. Nella giornata di martedì avremo l'apice diciamo per quel che riguarda le nevicate alle quote medio basse, questo perché nella giornata di martedì transiterà il nucleo freddo in quota che appunto determinerà un'ulteriore intensificazione dell'instabilità, quindi avremo dei rovesci a tratti anche diffusi che potranno risultare a carattere nevoso anche in pianura. Le precipitazioni più intense le ritroveremo via via procedendo verso la dorsala appenninica, in particolare proprio sui settori interni appenninici le nevicate potranno risultare un pochino più copiose con degli accumuli che tra martedì e mercoledì oltre i 6-700 metri potranno raggiungere anche 10-15 cm. Quindi non parliamo di un particolare di un grosso nevone ma quello che fa specie se non altro queste nevicate fino a quote veramente molto basse soprattutto considerando il periodo in cui siamo. Le temperature anche per martedì continueranno a mantenersi basse, sulla costa non si andrà oltre i 6-7 gradi nei valori massimi, mentre sulle zone collinarie appenniniche oltre i 5-600 metri si resterà attorno allo zero o anche al di sotto per gran parte della giornata. Anche nella giornata di mercoledì avremo ancora soprattutto nella prima parte del giorno dei fenomeni diffusi, anche se via via, come potete vedere dal colore azzurro che rappresentano le piogge e dal verde che rappresentano le nevicate, la quota neve tenderà gradualmente ad alzarsi, quindi ancora nel mattino avremo delle nevicate possibili fino in pianura e localmente anche sulla costa, poi nel corso del pomeriggio sera arriverà aria un pochino più umida da sud-est che appunto determinerà un lieve aumento delle temperature e quindi sulla costa le precipitazioni poi si trasformeranno in pioggia.